benvenuti al focus di approfondimento real estate question mark for the future e con noi marco racca direttore generale di aurora recovery capital buongiorno marco buongiorno cominciamo dall'esperienza recente del lock down come avete affrontato questa situazione di emergenza eravate attrezzati per il lavoro a distanza avete dovuto compiere interventi straordinari come andata sarà sicuramente un'esperienza molto interessante molto challenging noi abbiamo due sedi una milano e una roma sicuramente la sede di milano è quella che abbiamo chiuso per prima e dove abbiamo attivato diciamo lo smart working per primi e poi dopo anche sulla sede di roma sicuramente credo che questa esperienza sia comune a quasi tutte le aziende italiane ci ha permesso di verificare che lo smart working funziona e funziona veramente bene da un punto di vista it e di infrastrutture non abbiamo dovuto fare grandi sforzi perché diciamo che tutto il nostro team è abitato a viaggiare a viaggiare moltissimo e di conseguenza eravamo già strutturati ampiamente per la gestione modalità remota delle attività lavorative vi è da dire che il focus principale su cui ci siamo concentrati in termini di rafforzamento dell'infrastruttura è stato principalmente da un punto di vista di server e capacità di banda dei server e capacità di elaborazione per diciamo anche garantire elevata qualità delle conferenze video ma soprattutto la sicurezza questo perché durante il periodo del lockdown è stato misurato un tentativo di attacchi che è stato molto molto più elevato rispetto ai periodi antecedenti al lockdown e questo è un fenomeno comune in tutto quanto il mondo per cui diciamo abbiamo dovuto innalzare barriere di sicurezza molto più elevate perché lavorando la gente in modalità di smart working gli hacker presupponevano che diciamo le reti fossero più vulnerabili grazie a dio non abbiamo riscontrato poi problemi in tal senso da un punto di vista strettamente di business quello che ci è mancato di più è sicuramente stato il contatto fisico con i cantieri con i nostri progetti con gli asset e anche con i borrower questo perché noi ci occupiamo principalmente anzi esclusivamente di crediti real estate crediti principalmente utp e quindi molti progetti ongoing progetti di development ongoing e sicuramente noi appunto come dicevo prima i nostri asset manager viaggiano tanto perché sono spesso presenti on site e diciamo sovrintendono e controllano l'andamento dei development piuttosto che delle attività di vendita direttamente on site e ovviamente questo è mancato e quindi diciamo le nostre abitudini si sono interrotte principalmente l'impatto principale l'abbiamo sentito rispetto a questo aspetto con riferimento alle esposizioni unlikely to pay che sono quelle diciamo che per voi sono maggiormente rilevanti in particolare quelle caratterizzate da garanzie immobiliari anche in considerazione del fatto che sono state escluse dalle misure straordinarie di moderatoria e di sostegno quali sono le prospettive ci sarà un deterioramento della qualità del credito allora qui il discorso a mio avviso va diviso in due fondamentalmente allora rispetto al nostro portafoglio ma in generale rispetto all'attività di chi gestisce crediti utp e riguardo ricordo che noi siamo tra i primi in italia essere partiti se non proprio i primi con un primo portafoglio già nel 2016 ci sono un elevato numero di posizioni che erano pronte per passare di classificazione una classificazione superiore quindi a foreborn performing per poi andare verso il performing un primo tema che diciamo i regolamenti ebba icb banca d'italia un primo buco a mio avviso che hanno evidenziato e che non essendo intervenuti sulla normativa del foreborn hanno fatto sì che posizioni già ristrutturate che andavano molto bene e che però durante il periodo del lockdown hanno subito potrebbero subire in questi mesi dei piccoli rallentamenti ma strettamente correlati per così dire all'andamento del tema epidemico potrebbero perdere diciamo la possibilità di andare a breve a foreborn performing questo perché come sapete la normativa prevede che durante il periodo di 12 mesi dalle misure di forbearance e diciamo l'eventuale riclassificazione il borderware oltre a corrispondere pagamenti significativi rispetti ogni tipo di covenant e non necessiti di nessun waiver è ovvio che in questo periodo è molto difficile pensare che un borderware possa non necessitare di un waiver pensiamo ad esempio all'hospitality no? Quindi è più che normale pensare che un minimo di moratoria sia necessaria per poter girare la boba. Per cui io vedo sicuramente un forte rallentamento sulla tematica del foreborn performing perché di fatto il contatore dei 12 mesi ripartirà da zero in diversi casi e questo è un primo tema rilevante. Secondo tema invece sono quei crediti che non erano già stati ristrutturati e per il quale il turnaround dell'azienda sottostante dell'asset sottostante non era ancora stato realizzato e lì le criticità sono di carattere molto più significativo come diceva lei eh poco fa. In primis il primo problema sostanziale è la liquidità nel senso che eh un borrower che già era in una situazione distressed eh con un sottostante distressed eh in una situazione di questo genere con vendite bloccate o flussi bloccati nel caso di asset affittati piuttosto che pensiamo ad esempio asset retail eh piuttosto che eh flussi bloccati perché asset hospitality che non possono lavorare non possono generare flussi eh facilmente vanno in crisi di liquidità e eh le crisi di liquidità sono le tematiche più difficili da affrontare in questo momento e secondo me il tema più caldo che rischiano di incidere più significativamente sulla classificazione di questo tipo di posizioni. Sarà un periodo molto challenging e molto divertente anche perché eh sappiamo tutti che il peggio deve ancora arrivare non si è ancora manifestato semplicemente perché transazioni post covid di fatto non ce ne sono ancora state e eh sarà piuttosto challenging vedere come si andrà eh diciamo a poter gestire questo periodo. Eh io sono dell'avviso che misure di soldi a pioggia o misure generalizzate non servono e non servono mai. Eh capisco gli interventi governativi che non possono scendere di scala di livello però è il compito di servicere delle banche poter scendere di livello e poter capire dove intervenire con interventi mirati con le risorse a disposizione per poter riuscire a eh diciamo girare la boa di questo periodo così complesso e particolare. Eh andando ancora più nel dettaglio per rispondere alla sua domanda noi ci occupiamo unicamente di crediti real estate. A mio avviso la risposta alla sua domanda è molto legata rispetto all'asset class eh che è sottostante il credito perché eh ci sono delle asset class che eh allora partiamo dai dati positivi ci sono delle asset class che beneficiano del covid paradossalmente e ci riferiamo ad esempio alla logistica perché il boom dell'e-commerce di questo periodo eh non ha fatto altro che aumentare di molto alla domanda di logistica soprattutto agli logistica. Eh ci sono delle asset class che ehm subiranno dei rallentamenti ma molto probabilmente non avranno eh degli impatti eh terribili eh sul lungo periodo e mi riferisco a residenziale soprattutto a residenziale nuovo eh costruito con degli spazi all'aperto con dei volumi diciamo dei tagli un po' più ampi rispetto eh a quello che si vendeva in passato eh molto interessante è un dato che ha pubblicato Toscano Immobiliare eh un paio di settimane fa del numero di proposte ricevute eh in questo periodo per lo per appartamenti di dimensioni più grandi rispetto ai periodi anti covid si vede proprio che la domanda è andata molto 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 verso eh appartamenti più grandi e poi invece ci sono asset class eh che subiranno uno stop sostanziale eh per un periodo eh apparentemente che potrebbe essere abbastanza prolungato e mi riferisco all'ospitality e questo è un mercato italiano dove l'ospitality è detenuta da tantissimi player molto granulari potrebbe far sì che l'operatore eh per la sua dimensione ridotta non abbia le capacità di sostenere il periodo e poi ci sono delle asset class che sono state toccate in maniera veramente importante dal covid e mi riferisco ad esempio a retail in particolare ai centri commerciali a chiuso eh dove fondamentalmente il covid probabilmente ha accelerato un trend che prima era presente solo in parte e che si tentava di contrastare magari con una conversione da retail a leisure di molta unità e oggi è diventato sta diventando un problema piuttosto serio eh quindi la risposta generale alla sua domanda non c'è scendendo di asset class come ci siamo detti ci sono le diverse situazioni che potrebbero sì in generale in assoluto portare a un deterioramento importante del credito. Quello che mi preoccupa molto è anche quanto credito in bonus possa deteriorare OTP in questo periodo nonostante le moratorie nonostante gli interventi dello Stato. Anche se non siamo ancora in grado di prevedere eh la quantità dei nuovi flussi deteriorati esiste un consenso abbastanza unanime sul fatto che eh i volumi saranno abbastanza importanti da un punto di vista dell'industria del servicing con riferimento sia gli MPL che agli UTP. Esistono strutture sufficienti a far fronte alla nuova ondata? Questa domanda è complessa e molto difficile fare una previsione. Il vero tema è come si intende gestire gestire le posizioni. Mi spiego meglio. Lasciamo stare per un attimo lo stock esistente oggi. Pensiamo ai flussi futuri. Eh primo aspetto a mio avviso eh diciamo che le normative degli ultimi anni a partire dal calendar provisioning eh hanno insegnato alle banche e agli operatori del settore che eh sul credito anomalo bisogna intervenire in eh un early stage ma un very very early stage. Quindi già quando le posizioni sono in bonus e danno i primi segni di difficoltà. questo perché eh è quasi come il caso di un paziente con una con un raffreddore. Curare un raffreddore è molto facile. Se non lo si cura diventa influenza, se non lo si cura diventa polmonite e allora la cura è molto più complicata, più complessa, più costosa e magari possono rimanere comunque degli strascichi successivi. Eh quindi il primo aspetto da dire è eh abbiamo capito che non dobbiamo aspettare che i crediti diventino NPL prima di intervenire. Eh questa è una domanda la cui risposta è molto difficile. Eh noi di sicuro sì eh alcune banche soprattutto le banche partner con cui lavoriamo di sicuro l'hanno capito e devo dire che stanno tenendo un atteggiamento molto proattivo grazie al supporto di partner specializzati magari a tristituti un po' di meno. Secondo aspetto è come si gestisce una posizione una volta che passa diciamo da bonus eh a MP nella prima nel primo stage che tecnicamente è quello degli UTP. Ecco ora il problema è questo. In Italia moltissimi operatori si sono a un certo punto eh buttati nel mercato dell'UTP eh passando da quello degli NPL senza nessun tipo di mutuazione mentale o di approccio sistemico. Eh e quindi sostanzialmente approcciare eh un UTP eh come eh fosse un NPL e quindi di conseguenza con un approccio liquidatorio è il miglior modo soprattutto nel settore real estate per bruciare valore. Eh io faccio sempre questo esempio che eh può sembrare macabro eh però eh rende eh a mio avviso il dato. Eh gestire un NPL è come essere un anatomo patologo che va a fare un'autopsia eh su un cadavere. Ora eh non che tutti i NPL siano cadaveri però sostanzialmente il danno che si può fare ad un corpo che è già eh morto è un danno eh relativo d'accordo e anche le possibilità insomma che l'anatomo patologo può solamente scoprire la patologia fondamentalmente ehm ecco sono molto limitate. Eh quando si va a gestire un UTP eh a mio avviso si è come un chirurgo che interviene in un'operazione a campo aperto. Anzitutto c'è il tema del tempismo. L'intervento chirurgico va fatto e va fatto immediatamente e con tempistiche molto veloci. Secondo è la delicatezza dell'intervento che si va a realizzare perché davanti si ha un organismo vivente che è vivente non solo l'organismo ma anche tutti gli stakeholder attorno al borrower e quindi sostanzialmente bisogna intervenire facendo un intervento di turnaround aziendale che sia sostenibile, compatibile e che sia soprattutto efficiente ed efficace e che funzioni perché purtroppo in Italia siamo troppe volte abituati a vedere eh turnaround o ristrutturazioni di debiti che vengono rifatte e poi rifatte e poi rifatte e poi rifatte. In realtà rifare una ristrutturazione o modificare una ristrutturazione significa che quella precedente è stata fatta male e di conseguenza eh diciamo che l'approccio nella gestione degli UTP è un approccio molto più legato all'industria specifica del borrower e nel nostro caso del real estate. Quindi è un approccio molto più da asset manager real estate rispetto che eh all'approccio NPL che è un approccio puramente liquidatorio. Quindi la domanda eh a mio avviso è nell'industria italiana della gestione credito. Abbiamo sufficienti player e capacità di gestione di questo tipo di posizione con un approccio non liquidatorio? Temo che la risposta sia no. Si sta sviluppando in questo momento ma ci vogliono anni prima che si formino le competenze e le capacità. Come dicevo noi siamo stati i pionieri primi in questo settore con la prima operazione Sandokan che nacque nel 2015 e si in Arizona nel 2016 e devo dire che veramente ci guardavano tutti come fossimo delle diciamo una cosa molto strana e molto diversa. Oggi il discorso è molto di attualità. Tante persone parlano di UTP o vogliono entrare nel mondo di UTP. Nella realtà mi rendo conto che molti eh operatori non sanno bene di cosa parlano ovvero non hanno un'esperienza on track record dimostrabile e concreto eh di quella che è la loro reale capacità. A mio avviso bisogna affiancarsi sempre di più con operatori specializzati delle delle singole industrie del singolo boardware e lavorare più eh come asset manager della singola industrie che come eh diciamo gestori di credito. Io dico sempre una cosa. L'operatore recovery capital cioè AREC è prima un asset manager real estate tanto che noi abbiamo all'interno competenze ingegneristiche, architettoniche, urbanistiche, legali e amministrativisti e che ha competenze di gestione di loan. Però di base siamo di uomini real estate. Quando mi chiedono ma perché non vai a gestire i crediti anche di altre industrie? La risposta è molto semplice perché non ho una competenza così approfondita come la competenza che ho nel settore real estate e come la mia azienda ha nel settore real estate. Secondo me bisognerà creare una vera industry della gestione del credito con diverse competenze e diversi settori di specializzazione per assistere tutte le posizioni a secondo delle loro casistiche specifiche. Perfetto. Grazie mille. Avete visto il focus di approfondimento real estate question mark for the future con Marco Racca, direttore generale di Aurora Recovery Capital. Grazie Marco, buona giornata a tutti. Grazie a te. Grazie.